Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso la settimana scorsa, oggi abbiamo tutti i slime. Che bello! Saranno così centimorbidosi? Profumati? Profumatissimi, perché io profumati li adoro. Vedi che colore saranno? Scopriamo! Allora, cosa possiamo aprire? Dai, io direi di aprire lo shampoo. Ah, adesso vi faccio vedere. Togliamolo, toglia, togliamolo, togliamolo pochissimo. Dai, ragazzi. Ti aiuto? Ragazzi, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Slime preferito. Bello, bello. Bello tutto. Ci fai vedere? Ragazzi, ragazzi, guardate. Si spezza, si spezza un po'. Eccolo qua. Ci fai vedere? Ragazzi, 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 ragazzi. Non potete crederci. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Quello possiamo prendere. Adesso prendiamo. Questo è bellissimo, wow. E' quello di Feeds Frozen Slime. Vediamo. Le palline colorate, non vedo l'ora di metterle. E' bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Sono tutti e due belli. Sono dei me contro te. Ma che c'entra? Eh, che c'entra in questo video, eh? La punta. E' la punta. Ragazzi, ragazzi, è bellissimo. Adesso apriamoli. Eccolo qua, è il primo. Apriamo. Eccolo qua, guardate come si allunga. Questo è il fluffy. È il fluffoso. Quanto è il mio preferito. Se mettiamo un po'. E ci sono dentro anche dei fiorellini. E' profumatissimo, wow. Mettiamo due fiorelli. Clicca un po'. Non vuoi che siano profumati? Io si unisco così. Ecco, guardateli qua come sono belli con la slime. E che dite di mescolarli? Ok, ragazzi, ragazzi. No. Bellissimo. Qua si sentono tipo i fiorelli. Adesso prendiamo questo qua, ragazzi. Ok, adesso togliamo. Sono curiosa. Sono curiosa. Ok. Ragazzi, ragazzi, bellissimi. Ragazzi, bello. E... Ecco. Ecco la cosiddenza delle luce. Fissi, fissi. Mi piacciono gli slime. Mi piacciono, mi piacciono tanto. E via, comprati, ma apriamolo. Io dico... Quale apriamo, ragazzi? Adesso guardiamola così senza... Ok. Ok. Questo è cotton soft. Cotton fuck. Soft. 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 E via, apriamo questo. Questo adesso abbiamo... Questo è Crystal Slime Glitter. Vediamo. Ecco qua. Bellissimo, bellissimo. Io so che vi adoro. Siete bellissimi. È profumato? Sì, è profumato. E via, comprati, apriamolo. Beauty Slime. Adesso vi ho ad aprire... Facciamo vedere come erano tutte in busto. In busto. In busto. È tutto glitter o... Stiamo togliendo quello viola. Il viola è il mio colore preferito. Eccolo qua. Adel Signore S. S. Adelante. Eccolo qua. Facciamo vedere come è glitter tutto. Guarda che è tutto il mio genuino preferito. È profumato. Non è profumato. È di shopping. Sembra shopping. Ha pure trucco. Questa è della scatola beauty, ultimo terzo. Eccolo è della scatola beauty, il terzo. Sono rimasti cinque. Ci vediamo con tutti aperti. E via con tutti aperti. Come sono? Questo è cotton slime. Questo è cotton slime. Bello. Niente male. C'è cotton slime. Adesso apriamo un po'. Apriamo un po'. Dentro in scatola c'era questo. Raga. Raga. Questo. E questo bianco. E' lunga. E' lunga. Momma. E' lunga. E' lunga. E' lunga. Adesso la mettiamo in scatola. E' lunga. Questo era da qui. Ora passiamo al prossimo. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Questo. Questo qua. Che già avevamo aperto. Ok. Adesso. Ecco qua. Appiccichiamo un po' di palline. Ecco qua. Guardate. E prendiamo anche un'antiquetta, ragazzi. Adesso lo mettiamo. Non mischiamo. Ecco qua. Adesso prendiamo questo. Quanto c'è la londola di dentifricio? Ok. C'è l'odore di dentifricio? Che buon odore. Che bello. Ecco qua come si allunga. Ecco. Adesso prendiamo questo. Settastrattimo. Questo. Prendiamo un pezzo. E prendiamo un attimo questo. Questo un po'. Appiccichiamo così. Ok? Ormai il tavolo è diventato così. Perché le palline sono così. Ecco qua. E davanti con le palline? Sembra piselli. Piselli, eh? Spero che vi è piaciuto questo video. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Per non vedete i prossimi video. Ciao!